Presentato ufficialmente il nuovo direttivo ASCOM di Chiaramontegulfi ad amministrazione e sindaco, l'occasione è stata utile per un confronto sulle strategie da attuare per la valorizzazione del commercio locale. È emersa la necessità di lavorare in sinergia tra le varie parti interessate per stabilire strategie commerciali ed economiche con il solo obiettivo comune, quello dello sviluppo di Chiaramontegulfi. Durante l'incontro si è discusso su tutti i nuovi strumenti a disposizione della categoria, quali ad esempio il web. Altra tematica discussa la sicurezza territoriale necessaria per lo sviluppo delle imprese. Solidarietà esprimono dal direttivo sulla recente vicenda di Cronaca, il furto con spaccata ai danni di due esercizi commerciali del territorio. Puntare sulle peculiarità tipiche del territorio è la prima regola da seguire ai fini della crescita del comparto, investire sul turismo puntando sull'enogastronomia. Tra le eccellenze del territorio l'olio prevale su tutte. Grazie. 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 Grazie.